segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te delle immagini della società che dietro ai reati che lei persegue ora sa che la drammatica vicenda che stiamo seguendo tutti in questi giorni è quella dei femminicidi lei nota una cultura patriarcale diffusa nel territorio diffusa nel paese tanto da essere una componente essenziale di questi reati no no questi reati sono il risultato dell'abbandono dei giovani di decenni di cattiva educazione di egoismo dei genitori che non seguono i figli di una esagerazione nella performance e la prestazione dei figli però scusi la famiglia può venire una famiglia sbagliata la è la scuola e lo stato che deve pensare a formati aspetti non puoi essere responsabile della tua famiglia prima prima dello stato viene la famiglia prima dello stato prima che il bambino è sbagliata e se la famiglia è sbagliata allora bisogna intervenire bisogna scuola bisogna con bisogna intervenire con gli esseri sociali ok perché se la famiglia sbagliata se la famiglia sbagliata bisogna togliere la patria potestà ai genitori non aspettare che questi si nutrono di cultura mafioso sbagliata e poi quando hanno 15 anni che li toglie a fare se ormai immagina lo stato che insegue tutte le famiglie per togliere la famiglia e la patria potestà a quelli che le fanno male no intanto intanto noi dobbiamo avere intanto noi dovremmo avere noi dovremmo avere intanto degli asili degli asili poi dovremmo avere una scuola a tempo pieno dovremmo avere una mattina gli insegnanti al pomeriggio e bisogna investire la mafia